La Polizia di Stato di Gela ha tratto in arresto un gelese di 24 anni per detenzione ai fini dello spaccio di sostanza stupefacente e detenzione illegale di arma comune da sparo con relative munizioni. Il giovane era stato segnalato più volte come presunto spacciatore, pertanto gli investigatori della Polizia di Stato, nell'ambito dei controlli cosiddetti ad alto impatto, hanno concentrato la loro attenzione sugli immobili utilizzati dal ragazzo. Così gli inquirenti hanno eseguito una perquisizione domiciliare nell'abitazione dei genitori del presunto spacciatore, trovando cocaina e marijuana. I poliziotti che da giorni lo seguivano hanno esteso l'intervento anche a un'altra casa, utilizzata come nascondiglio, sequestrando altri 500 grammi di hashish, un bilancino di precisione e una pistola di provenienza illecita con relativo munizionamento. Il Pubblico Ministero della Procura della Repubblica di Gela ha disposto che il 24enne, dopo le formalità di rito, venisse portato nel carcere di Gela.